Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in Oltre Popavese e nella Riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 Sono oltre 5 milioni le persone che in tutto il mondo negli ultimi anni hanno partecipato ad una Color Run Nata negli Stati Uniti nel 2012 come un evento per promuovere il benessere e la felicità E fare in modo che tutti possano divertirsi e partecipare È approdata in Italia nel 2013 e solo lo scorso anno ha visto coinvolte oltre 112 mila persone Trattasi di una corsa o camminata non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, festa ed allegria L'obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì il massimo livello di divertimento e di benessere Ed è proprio alla Color Run che è ispirato il grande evento che domenica 24 settembre Celebrerà il cinquantesimo anniversario della parrocchia San Pietro, opera Don Orione di Voghera Si partirà alle 14.30 dal parcheggio dell'ex caserma Dove avverrà la consegna delle magliette bianche a tutti i partecipanti Sino ad esaurimento scorte, quindi consigliabile presentarsi già vestiti di bianco E l'accoglienza con intrattenimento Seguirà l'arrivo della statua del Santo Luigi Orione da Ponte Curone Con una delegazione di podisti dell'Atletica Ariense Alle ore 15 la partenza del corteo che attraverserà le principali vie della città Incluso è Piazza Duomo e via Emilia Poco dopo alle 15.45 una breve sosta davanti alla parrocchia di San Pietro Apostolo Con la spiegazione dell'evento e di saluti del parroco Si proseguirà poi verso la greenway di via Mendola Dove alle ore 16 prenderà ufficialmente il via colorandoci La marcia è impreziosita dalle tradizionali polveri colorate non tossiche Il traguardo nel parcheggio del negozio Decathlon di Voghera Dove verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti Per prendere parte all'iniziativa è necessario compilare Entro e non oltre il 15 settembre Il modulo di iscrizione su cui inserire i propri dati e la taglia della maglietta Il modulo da stampare e consegnare presso la segreteria parrocchiale di via Emilia 263 Insieme ad una quota di iscrizione pari a 5 euro Comprensiva di maglietta e ristoro È disponibile in questa pagina di Occhio Pavese Oppure sul sito www.donorionevoghena.it Tutto il ricavato ottenuto dalle iscrizioni Verrà devoluto al piccolo cottolengo di Tortona, opera di Donorione Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video Possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni Decine di migliaia di nuovi clienti E per venire incontro ad ogni tua esigenza Abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero O scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it Riparti con noi Riparti con Occhio Pavese